Bene, Francesco, ci hai dato tantissimi consigli molto interessanti, molto utili per i nostri utenti. Come facciamo sempre, però ti vorrei chiedere gli ultimi tre, quelli che secondo te un aspirante imprenditore deve avere in testa quando decide di intraprendere un progetto di start-up. Allora, quello che dico sempre alle persone che mi si sono presentate con un'idea e magari pensando che io avessi qualche scappatoio, comunque avessi già fatto la stessa esperienza e quindi magari avessi anche la soluzione al loro problema, io dico sempre che le idee oltre a avercele bisogna essere in grado di realizzarle e come ho detto prima, quindi a conoscere le persone o avere le persone all'interno del team con le competenze adatte. Ma soprattutto, la cosa più importante, è che vogliono impegnarsi nello sviluppo dell'idea e non basta il weekend, non basta la sera, bisogna veramente pensarci 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che non vuol dire che bisogna abbandonare il proprio lavoro e diventare disoccupati, però bisogna veramente metterci dell'impegno e soprattutto le persone devono fidarsi l'uno con l'altro e non bisogna lasciarsi alla prima difficoltà. È molto dura la vita dello startup, noi lo sappiamo bene, le difficoltà ci sono tutti i giorni e bisogna veramente impegnarsi per risolverle al meglio. Altro consiglio, ovviamente, come ho detto prima, è il team, quindi un team competente deve essere assolutamente richiesto in una startup, quindi almeno le 3-4 professionalità base ci vogliono, poi ovviamente se ci sono delle richieste particolari, quelle si trovano, però se uno vuol fare un'app, almeno che ci sia lo sviluppatore che conosca quel tipo di linguaggio, se uno vuol fare un qualsiasi prodotto tecnico in cui bisogna avere delle competenze ingegneristiche o chimiche, ci vuole la persona anche perché le buone idee poi vengono dalle persone che conoscono quell'ambito, quindi ci deve essere per forza una persona competente all'interno del team. Terzo consiglio che mi sento di dare è conoscere molto bene i propri competitor, quindi noi ci eravamo studiati per file e per segno tutti quelli che facevano qualcosa di simile rispetto a noi, la loro storia, quanto fatturavano, quanto avevano preso, chi avevano nel team, come erano nata l'idea, come l'avevano portata avanti gli investitori e soprattutto dove avevano sbagliato, perché all'inizio non ha feedback da parte dei propri clienti e può solo vedere come chi ha avuto un'idea simile e magari è già sul mercato da qualche anno, ha portato avanti la propria idea e quindi ovviamente anche lui ha sbagliato, anche lui all'inizio gli investitori non lo ascoltavano, quindi conoscere per file e per segno ammela dito, anzi forse meglio di chi ha fondato quella startup e le startup che sono i tuoi competitor. Chiaro, grazie mille Francesco ci hai dato ottimi consigli, speriamo che solo continua a crescere e si espanda subito anche in Inghilterra e in tutti i paesi. Grazie mille e alla prossima, ciao ciao. Grazie mille e alla prossima. Grazie mille e alla prossima.